Il nuovo piano dei rifiuti del Molise tra gli argomenti al centro dell'Ecoforum di Lega Ambiente, evento giunto alla quinta edizione organizzato da Lega Ambiente in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise e la Camera di Commercio. Il settore segretario di Baggio stamattina ci ha raccontato che la Regione sta iniziando a scriverlo, che punterà ad abbattere la produzione pro capite di rifiuti. Ancora non abbiamo avuto modo di farutarlo e visionarlo perché è in fase embrionale. Nel 2021 la raccolta differenziata in Molise è arrivata al 58,4% con una crescita del 3,8% rispetto all'anno precedente. 27 comuni che inviano a smaltimento non oltre 75 kg pro capite. La provincia di Campobasso fa meglio della provincia di Sernia. Ferrazzano, Matrice e Mirabello, Sannitico sul podio dei comuni rifiuti free. Il Molise esegue il trend positivo che sta seguendo da diversi anni rispetto all'aumento della raccolta differenziata. Non raggiunge ancora le percentuali previste per legge del 65% perché sono diversi comuni che in cui la raccolta differenziata non viene ancora fatta. Poi c'è il Comune di Campobasso che ancora non raggiunge le performance indicate dalla normativa di settore. Lega Ambiente e Molise ha lanciato una proposta contenente cinque punti per lo sviluppo dell'economia circolare regionale per attivare un sistema di tariffazione puntuale nei servizi di raccolta differenziata, revisionare il piano regionale di gestione rifiuti, realizzare gli impianti di riciclaggio con tecnologie innovative, rafforzare il sistema dei controlli ambientali e favorire l'utilizzo dei prodotti da riciclo con gli appalti verdi. Tra le cinque proposte che abbiamo lanciato c'è quella della tariffazione puntuale seguendo il principio di chi inquina paga. Il cittadino che fa bene la raccolta differenziata deve trarneggiovamento anche a livello economico e anche a livello di tasse. I cittadini sono i primi passi della sfida. La raccolta differenziata è il primo passaggio, il secondo è quello di ridurre i rifiuti portati a discarica e quindi riciclare. Il premio Comune di Rifiuti Free che noi facciamo oggi proprio vuol dire questo, ovvero quali sono quei comuni che riescono a mandare in discarica è il meno possibile. Poi c'è tutto il compito della regione, delle imprese, nel fare una buona pianificazione degli impianti e un buon riciclo dei rifiuti. I protagonisti sono i cittadini, chi meno inquina meno paga lo slogan di Lega Ambiente. Il cittadino nell'economia circolare diventa il primo protagonista perché dalle abitazioni parte una buona gestione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, quindi è un ruolo fondamentale e chiaramente il cittadino agisce meglio se c'è gli strumenti giusti, quindi raccolta porta a porta, riflazione puntuale, c'è tutti quegli strumenti che permettono al cittadino di essere protagonista. Ancora lontano, l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata che tutti i comuni italiani avrebbero dovuto raggiungere in Molise sono 80 i comuni che sono al di sotto di questa soia pari al 59% del totale.